Sono Gabriele Fedrizzi, ho 26 anni, dall'età di 10 anni faccio parte dei Vigili del Poco Volontari di Malè oltre a questo da alcuni anni faccio gare di scialpinismo e di corsa in montagna quindi quando ho scoperto che esisteva una gara come l'Olli de Brevo ho solito pensato di provare a farla la prima volta nel 2016 sono arrivato terzo, le ultime due edizioni invece sono riuscito ad arrivare in cima al percorso Strong per primo, è stata sicuramente una grande soddisfazione su una prova così impegnativa che comunque consiglio a tutti i Vigili del Fuoco perché è un'esperienza molto utile ed interessante con l'autoprotettore ci vedremo sicuramente tra pochi mesi all'edizione 2019